In Germania le insegnanti saranno libere di indossare il velo anche nelle scuole pubbliche. Lo ha deciso la Corte Costituzionale Federale che oggi renderà nota la propria sentenza. In realtà il verdetto era già parso per errore sul sito della Corte di Karlsruhe, poi subito ritirato. Ma il quotidiano Taz di Berlino era riuscito a copiare le schermate e a pubblicarla. Il provvedimento ribalta la decisione presa nel 2003 dalla stessa Corte, chiamata in causa da una donna di origine afghane. Ad appellarsi ai giudici questa volta sono state due insegnanti musulmane del Land del Nord Reno, Westfalia. Nel verdetto si sostiene che il velo può essere vietato solo se mette a rischio la tranquillità della scuola stessa. I giudici sottolineano anche che finché simboli cristiani saranno permessi dalle leggi statali, non c'è motivo per cui le donne musulmane non possano coprirsi il capo.